Sono delle cose che hanno funzionato in maniera altalenante, diciamo alcuni set abbiamo fatto bene delle robe e poi dopo altre cose, il terzo che avevamo cominciato a giocare un pochino meglio abbiamo spagliato una catena di battute, avevo chiesto di forzare un po' ma non siamo riusciti ad avere dell'equilibrio, però bene nel senso che quello ripeto un po' quello che ho detto l'altra volta, per me sono dei momenti importantissimi questi perché imparo a conoscere le ragazze e oggi è una partita molto difficile perché dall'altra parte c'era una squadra di un livello nettamente superiore al Minnesota, oggi è stata una partita ancora molto importante sotto questo punto di vista.